Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che avendo il cuore resta sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Il mio percorso è stato un susseguirsi di molte tappe. Ho fatto l'alberghiero, quindi di professione nasco cuoco e lavoro per 15 anni nei ristoranti un po' in giro per l'Italia e per il mondo, soprattutto quelli che si possono freggiare delle fantomatiche stelle Michelin. Sono riuscito a ottenerla anch'io per due anni quando avevo 25 anni in un ristorante di Cuneo. Mi stava stretto perché io sentivo il richiamo della mia terra, delle mie montagne e quindi il passo successivo è stato praticamente automatico. Tornare qui, voler un'esperienza in montagna e soprattutto volerla nel posto che conoscevo meglio. Volevo una cosa più concreta, più popolare, tra virgolette, e quindi ho deciso di mollare tutto e trasferirmi a 2000 metri nella mia valle, che è questa, la valle Varaita, e ho gestito per quattro anni un rifugio appunto a 1850 metri di altitudine. Poi d'inverno non si arrivava con la macchina, si viaggiava in motoslitta, quindi è stata un'esperienza abbastanza estrema, che però volevo fare e mi ha fatto capire tante cose. Principalmente quella di mettere anche un po' a servizio il mio lavoro, la mia esperienza, del mio territorio. Reis è un agriturismo che è nato un anno e due mesi fa. Abbiamo oltre un piccolo ristorante con 30 coperti, un greggio di una ventina tra capra e pecore, un grosso pollaio, l'orto. Ho lasciato il rifugio nel novembre 2016, uno perché nel frattempo sono arrivate due bimbe e due perché avevo voglia di cominciare concretamente le idee che avevo rispetto al mio mestiere. Conoscevo l'attuale proprietaria dei muri che aveva lei ristrutturato e aperto l'agriturismo e quindi nel giro di due settimane sono venuto, mi è piaciuto il posto, ho passato più di un mese a pulire fuori i boschi e quant'altro perché fosse anche bello esteticamente e poi diciamo che le idee in testa riguardo la cucina le ho maturate nel corso degli anni e quindi quando ho cominciato le avevo già pronte. Il secondo tema principale di quello che oggi è Reis è avvicinare tutto il mondo che permette alla cucina di fare quello che fa, cioè l'agricoltura e l'allevamento. Ho cominciato un anno fa questo percorso che vuole avvicinare queste due realtà e non è ancora terminato perché il progetto della mia vita è quello di ristrutturare le case nella borgata dove è nato mio padre che ha circa due chilometri in linea d'aria da qui e in questa borgata che si chiama Chiod Martin ed è nel ballone di Valmala che è una valle laterale alla valle Varaita, la borgata dove è nato mio padre, dove sono nati i miei nonni e tutti quelli prima. L'investimento sarà importante, condividere le idee con altri mi dà magari anche la possibilità di partire magari con se ci sono qualche finanziamento, qualche incentivo a un progetto del genere. Questo è diciamo un banco di prova. La più grossa difficoltà può essere stata quella di essere lontano dai grandi centri urbani dove c'è forse più fermento, c'è forse più propensione alle idee di cui ho parlato finora e quindi allo stesso tempo c'è più difficoltà nel venire qua. Però dall'altra parte ho sempre detto che io la cucina che faccio e le cose che penso non avrei potuto fare dalle altre parti. Probabilmente ci vorrà più tempo rispetto ad aver aperto in città, ma la soddisfazione, anche solo la qualità della vita che posso avere qui, avendo provato la città, non hanno paragoni. Per me l'Italia che cambia è un crescere di consapevolezza. Il cibo è la cosa che oggi incide più di tutto sul mondo, perché sappiamo bene che se si parla di cibo si parla di allevamento, di agricoltura, di società, di trasporti, di economia, di cultura, di tutto. E quindi tornare a dedicare il giusto tempo che merita il cibo e le scelte che facciamo sul cibo sono una delle cose che se fatta da ognuno nel proprio piccolo cambiano il mondo.